George Eliot, il velo dissolto Parte prima Il momento della mia morte si avvicina. Negli ultimi tempi sono andato soggetto ad attacchi di angina pectoris e da come vanno queste cose, stando a quel che dice il mio medico. Posso sperare che la mia vita non si prolunghi ormai più di qualche mese. A meno che dunque io non sia afflitto, oltre che da facoltà mentali fuori del comune, anche da una costituzione fisica molto forte, non dovrò sopportare ancora per molto il gravoso fardello di questa esistenza terrena. Se fosse altrimenti, se dovessi vivere fino a quell'età alla quale la maggior parte degli uomini aspira e si prepara, saprei, per una volta, se la pena di un'attesa delusa può essere maggiore di quella provocata da una previsione esatta. Perché io prevedo il momento della mia morte e tutto quanto accadrà in quegli istanti estremi. Esattamente tra un mese, il 20 settembre 1850, alle 10 di sera, mi troverò seduto su questa poltrona, in questo studio, stanco di intuire e di prevedere ancora, senza delusioni e senza speranze. Mentre guarderò la lingua bluastra di una fiamma alzarsi nel camino e la lampada starà ranguendo, comincerà nel mio petto l'orribile contrazione. Avrò appena il tempo di raggiungere il campanello e tirare con forza il cordone prima che sopraggiunga il senso di soffocamento. Nessuno risponderà alla mia chiamata. Io so perché. I miei due domestici sono amanti e avranno litigato. La governante se ne sarà andata via di casa furiosa, due ore prima, sperando di far credere a Perry che si sarebbe annegata. Alla fine Perry, allarmato, lei è corso dietro. La piccola sguattera si è addormentata su una panca. Non risponde al campanello, non si sveglia neppure. Il senso di soffocamento cresce. La lampada si spegne con un orribile puzzo. Compio un enorme sforzo, mi attacco di nuovo al campanello. Ho paura di morire, ma nessuno viene in mio aiuto. Avevo sete di cose sconosciute. Quella sete è scomparsa. Oddio, lasciatemi con ciò che già conosco e di cui già sono stanco. Non chiedo altro. L'agonia di dolore e soffocamento è intanto la terra, i campi, il ruscello sassoso dietro il gruppo di vecchie casupole, il sentore di fresco dopo la pioggia, la luce del mattino attraverso la finestra della mia camera, il caldo del focolare dopo l'aria gelata. Su tutto questo scenderanno per sempre le tenebre. Tenebre, tenebre. Nessun dolore, nient'altro che tenebre. Passo e ripasso nelle tenebre. I miei pensieri diventano tutt'uno con quell'oscurità, con la sensazione di sprofondarvi sempre di più. Prima che venga il momento, voglio usare le mie ultime ore di lucidità e di forza per raccontare la storia della mia vita. Prima d'ora non mi sono mai confidato a fondo con nessun essere umano. Non mi sono mai sentito incoraggiato a far conto sulla comprensione dei miei simili. Una volta morti, però, tutti abbiamo diritto a ottenere compassione, tenerezza, carità. Solo i vivi non ottengono perdono. I vivi allontanano l'indulgenza e il rispetto degli uomini come il vento impetuoso dell'est allontana la pioggia. Finché il cuore batte, feritelo. È la vostra sola opportunità. Finché gli occhi possono ancora volgersi verso di voi colmi di preghiere e di lacrime, freddateli con uno sguardo gelido e crudele. Finché l'orecchio, il delicato messaggero delle cose più segrete dell'animo, può ancora percepire i toni della gentilezza, sbarazzatevene con fredda cortesia, con beffarda affabilità, con affettata indifferenza. Finché l'intelletto creativo freme davanti all'ingiustizia, struggendosi per un desiderio di fratellanza umana, affrettatevi, opprimetelo con i giudizi malevoli, con i paragoni superficiali, con la non curanza che distorce le cose. A lungo andare il cuore non batterà più. Cubiseva indignazio, ulterior cor lacerare, nequit. Gli occhi cesseranno di chiedere, l'orecchio diverrà sordo, la mente avrà smesso di pensare e non avrà più bisogno di nulla. Allora i vostri discorsi caritatevoli potranno avere libero sfogo. Potrete ricordare e compatire la fatica, la lotta disperata, il fallimento. Allora potrete dare il giusto valore a quanto di buono era stato fatto, trovare le attenuanti e gli errori e magari accettare di dimenticarli. Sono discorsi banali da libro di scuola. Perché mi ci sono fermato su? Non mi riguardano, granché, visto che non mi lascerò dietro niente che possa venire ricordato dagli altri. non ho parenti che possano risanare piangendo sulla mia tomba le ferite e inflittemi mentre ero con loro. Solo la storia della mia vita forse potrà dopo la morte procurarmi presso gli estranei una simpatia maggiore di quella che abbia mai sperata di riscuotere dagli amici mentre ero vivo. La mia infanzia, per contrasto con gli anni successivi, mi appare forse più felice di quanto non sia stata in realtà. A quel tempo la cortina del futuro era per me impenetrabile come per gli altri bambini. Come loro conoscevo tutte le gioie dell'ora presente tutte le dolci infinite speranze del domani. Avevo una madre piena di tenerezza. Anche ora dopo il triste scorrere di tanti anni ritrovo la traccia di una sensazione mai dimenticata al ricordo delle sue carezze mentre mi teneva sulle ginocchia. Quelle braccia intorno al mio corpo piccino la sua guancia premuta contro la mia. Una malattia agli occhi mi rese cieco per un breve periodo e mia madre mi tenne in grembo dalla mattina alla sera. Quell'amore senza uguali scomparve presto dalla mia vita e anche per la mia coscienza infantile fu come se l'esistenza fosse divenuta più gelida. Come prima cavalcavo il mio piccolo pony bianco con lo stagliere alato ma non c'erano più occhi amorosi a guardarmi alla partenza ne brazzaliete ad aprirsi per me al ritorno. Forse l'amore di mia madre venne a mancarmi più di quanto sarebbe mancato a qualsiasi altro bambino di sette o otto anni per il quale tutte le altre gioie della vita sarebbero rimaste intatte. Ma certamente era un bambino molto sensibile. Ricordo ancora la trepidazione mista un delizioso eccitamento che mi prendeva udendo il calpestio dei cavalli rimbombare sull'impiantito delle stalle il risuonare delle voci degli stallieri il confuso abbaiare dei cani che esplodeva quando la carrozza di mio padre passava con fragore sotto l'arco d'ingresso del cortile il suono del gong che annunciava il pranzo e la cena il passo cadenzato dei soldati che talvolta percepivo la casa di mio padre era vicina a una capitale di contea piena di grandi caserme mi faceva singhiozzare e tremare eppure quando era passato desideravo che tornasse ancora immagino che mio padre mi considerasse un bambino piuttosto strano e non abbia mai nutrito molto affetto per me pur essendo scrupolosissimo nell'adempimento di quelli che considerava i doveri di un genitore ma aveva già superato la mezza età e io non ero il suo unico figlio mia madre era stata la sua seconda moglie e lui aveva già 45 anni quando l'aveva sposata era un uomo risoluto inflessibile estremamente metodico veniva da una famiglia di banchieri ma aveva la vocazione del proprietario terriero e aspirava ad avere un peso nella vita della contea una di quelle persone ogni giorno uguali a se stesse che non vengono influenzate dal tempo bello brutto che non conoscono né allegria né tristezza io sentivo un gran rispetto per lui e in sua presenza apparivo più timido ed emotivo del solito un fatto questo che probabilmente lo convinse ad educarmi in modo diverso da quello tradizionale scelto invece per mio fratello maggiore che era allora un ragazzo già grande studente a Eton mio fratello era destinato ad essere il suo successore e continuatore dopo Eton naturalmente sarebbe andato ad Oxford per imbastire relazioni sociali e utili conoscenze mio padre non era un uomo da sottovalutare l'apporto della conoscenza dei drammaturghi greci e degli scrittori satirici latini nel raggiungimento di una prestigiosa posizione sociale ma in fondo non stimava poi tanto quegli spiriti coronati ma morti si sentiva autorizzato a tranciare i giudizi per aver letto l'Eschileus di Potter e sfogliato l'Oras di Francis a queste sue disposizioni negative tuttavia se ne aggiungeva una positiva derivata da una sua recente esperienza nel campo delle speculazioni minerarie che una educazione scientifica fosse davvero la più utile e adatta per un figlio minore oltretutto era chiaro che un ragazzo introverso e sensibile come me non era in grado di affrontare la ruda esperienza di una scuola pubblica il signor Letherall lo aveva afferrato piuttosto decisamente il signor Letherall era un umone alto e con gli occhiali che un giorno prese la mia piccola testa fra le sue grandi mani e comprimendola qua e là cominciò ad esplorarla con fare sospettoso a un certo punto mi piazzò i suoi due grossi pollici sulle tempie e mi spinse via un po' a distanza guardandomi fisso attraverso gli occhiali scintillanti quello che vide sembrò non piacergli molto perché corrugò la fronte con aria severa e passandomi i pollici sulle sopracciglia disse a mio padre l'insufficienza è là signore là e qui raggiunse toccandomi la sommità della testa qui c'è un eccesso bisogna fare in modo che questo venga fuori e che quest'altro resti invece sopito io tremavo in parte perché intuivo confusamente di essere oggetto di riprovazione in parte perché ero in preda al mio primo odio odio per quel grosso individuo occhialuto che mi palpava la testa come se avesse voluto comprarla e stesse tirando sul prezzo non so quanto il signor Referol sia stato responsabile del sistema educativo adottato in seguito nei miei confronti ma parve presto con chiarezza che le lezioni private di storia naturale scienze e lingue moderne erano i mezzi con cui si cercava di rimediare ai miei difetti costituzionali non capivo niente di macchine quindi dovetti occuparmene molto non avevo alcuna memoria per le classificazioni dunque si ritene necessario che studiassi sistematicamente zoologia e botanica avevo sete di avventure e di azioni così venne imbottito di cognizioni sulle leggi della meccanica dei corpi elementari dei fenomeni elettrici e magnetici un ragazzo più disponibile di me avrebbe senza dubbio tratto profitto da quegli ottimi istruttori e dai loro apparati scientifici trovando di certo i fenomeni elettrici e magnetici davvero così affascinanti come ogni mercoledì mi veniva assicurato che fossero stando così le cose invece potevo fare il paio per la totale ignoranza su tutto ciò che mi veniva insegnato con il peggior studente di latino che fosse mai uscito da una scuola classica leggevo di nascosto Plutarco Shakespeare e il Don Quixote mi riempì in tal modo la testa di fantasticheria mentre il mio maestro mi assicurava che un uomo colto a differenza di un ignorante conosce il motivo per cui l'acqua scorre verso il basso io non avevo alcun desiderio di essere quel tipo di uomo colto ero felice che l'acqua scorresse potevo guardarla per ore ascoltare il suo gorgoglio fra i ciottoli e vederla bagnare il verde brillante delle piante palustri non mi importava sapere perché scorresse ero del tutto convinto che vi fossero delle ottime ragioni per una cosa talmente bella non c'è bisogno che mi dilunghi ancora su questa parte della mia vita ne ho detto quanto basta per spiegare la mia natura di ragazzo sensibile e privo di senso pratico cresciuto in un ambiente sfavorevole a un suo sviluppo salutare e felice quando compii 16 anni venne mandato a Ginevra per completare i miei studi fu un cambiamento felice per me la prima visione delle alpi al tramonto mentre scendevamo dal Jura mi sembrò quasi un ingresso in paradiso nei tre anni trascorsi a Ginevra al cospetto della natura e della sua terribile bellezza provai un continuo impetuoso senso di esaltazione simile a un sorso divino inebriante penserete forse che io fosse un poeta per questo mio precoce sentimento verso la natura purtroppo non ero così fortunato un poeta si esprime nel suo canto e sa che presto o tardi un orecchio lo ascolterà e un'anima sensibile gli darà risposta ma la sensibilità del poeta senza voce la sensibilità del poeta che sa esprimersi solo con lacrime silenziose lungo le rive assolate quando la gran luce del meriggio brilla sull'acqua o con una repentina chiusura in se stesso alle parole aspre degli uomini questa muta passione porta con sé un fatale senso di solitudine tra gli altri esseri umani ma vi erano dei momenti in cui questa solitudine mi pesava meno quando al calar della sera uscivo in barca dirigendomi verso il centro del lago mi sembrava allora che il cielo le vette splendenti delle montagne l'azzurra distesa dell'acqua mi circondassero di un caldo amore come nessun volto umano aveva saputo esprimermi da quando quello di mia madre era svanito dalla mia vita disteso nella barca facevo come Jean-Jacques lasciavo che mi portasse dove voleva mentre guardavo le cime incandescenti di sole spegnersi una dopo l'altra come se il carro di fuoco del profeta passasse sopra di loro percorrendo la sua strada verso la dimora della luce poi quando le cime saranno fatte tristi e come morte era il momento di tornare a casa infatti ero tenuto sotto una sorveglianza piuttosto stretta e non mi era permesso di rimanere fuori fino a tarda sera questo mio stato d'animo non era certo favorevole alla nascita di qualche amicizia intima tra i numerosi giovani della mia età che si trovavano a Ginevra per ragioni di studio tuttavia una vera amicizia ci fu il caso singolare proprio con un giovane di tendenze intellettuali diametralmente opposte alle mie lo chiamerò Charles Mounier perché il suo vero nome un nome inglese come la sua origine è in seguito divenuto famoso era orfano e viveva di un misero salario portando avanti i suoi studi di medicina per i quali aveva una particolare predisposizione strano che con il mio carattere distratto impressionabile poco osservatore che odiava la ricerca e tendeva alla contemplazione io mi interessasse a un giovane il cui maggior interesse era la scienza ma il nostro non era un legame intellettuale scaturiva da una fonte che può felicemente mettere insieme l'intelligente e lo stupido il realista e il sognatore scaturiva da una comunione di sentimenti Charles era povero e brutto deliso da giovani ginevrini e impresentabile nei salotti vedevo che come me era un isolato anche se per motivi differenti spinto da uno slancio di simpatia azzardai qualche timido approccio basterà dire che fra noi sorse quel tanto di camaratismo che le nostre differenti abitudini potevano permettere nei rari giorni di vacanza di Charles ce ne andavamo insieme sul salev o prendevamo il battello per vevai mentre io ascoltavo distrattamente i monologhi nei quali esponeva le sue ardite concezioni riguardo esperimenti e scoperte future che nella mia mente si confondevano con la visione delle acque azzurre e delle nubi che vagavano nel cielo col canto degli uccelli e il luccichio lontano dei ghiacciai lui sapeva benissimo che nei pensieri erano altrove ma gli piaceva ugualmente parlare con me di quanto gli stava a cuore non è forse vero che parliamo delle nostre speranze e dei nostri progetti anche ai cani e agli uccelli quando sappiamo che ci amano ho voluto ricordare questa mia sola amicizia perché è collegata a uno strano e terribile avvenimento della mia vita successiva di cui parlerò dopo una grave malattia non è ricordo altro che un confuso dolore fisico e morale e la saltuaria presenza di mio padre al mio capezzale pose fine al felice periodo ginevrino seguì la languida monotonia della convalescenza con i giorni che gradualmente si facevano più vari e distinti man mano che mi rafforzavo ed ero in grado di fare passeggiata in carrozza sempre più lunghe in uno di quei giorni che ricordo meglio degli altri mio padre si sedette accanto dove ero e disse quando sarai in condizione di viaggiare Latimer ti porterò a casa con me il viaggio ti distrarrà e ti farà bene attraverseremo il Tirolo e l'Austria vedrai molti posti nuovi i nostri vicini i Fillmore verranno con noi Alfred si raggiungerà a Basilea e tutti insieme andremo a Vienna poi torneremo passando per Praga mio padre venne chiamato fuori dalla stanza prima di aver terminato la frase e mi lasciò fantasticare sulla parola Praga con una strana sensazione come se una scena nuova e meravigliosa si stesse per aprire davanti a me una città sotto un pesante cielo assolato un sole estivo di secoli lontani fermato nel suo corso mai rinfrescata da tempo immemorabile dalla rugiada notturna o dalle rapide nuvole portatrici di pioggia un sole che bruciava la polverosa consunta grandezza di genti condannate in eterno a vivere nell'estenuante ripetersi dei ricordi come sovrani ormai deposti e invecchiati ancora adorni delle loro vesti d'oro a brandelli la città appariva così ardente che il grande fiume sembrava una lingua metallica e le statue annerite mentre passavo sotto i loro occhi vuoti lungo il ponte esterminato mi parvero con le loro antiche acconciature e la loro sante corone i veri abitatori e padroni del luogo gli uomini e le donne affacendati e banali nel loro frettoloso va e vieni erano invece come uno sciame di insignificanti effimeri visitatori che infestassero la città per un giorno sono severe creature di pietra come queste pensavo i padri di bimbi svaniti nel tempo in quelle case che affollano il pendio davanti a me corroso dal tempo i loro cortigiani ossequiosi nello splendore logoro e cencioso del palazzo che si distende monotono sulla collina loro che si dedicano con stanchezza al culto nell'aria greve delle chiese non spinti da paure o speranze ma condannati dal loro stesso destino ad essere per sempre vecchi senza mai morire vivendo nella fissità come un perpetuo meriggio senza il riposo della notte né la rinascita del mattino un assordante rumore metallico mi fece trasalire all'improvviso ed il nuovo divenne cosciente di essere nella mia stanza una delle molle del caminetto era caduta mentre Pierre apriva la porta recandomi la solita medicina il mio cuore batteva con violenza e gli chiesi di lasciarmi la medicina lì accanto l'avrei presa il più presto appena fui di nuovo solo cominciai a chiedermi se avevo dormito era stato dunque un sogno quella visione meravigliosa precisa tanto particolarezzata nei suoi dettagli da comprendere perfino una macchia di luce multicolore proiettata sul selciato dai vetri di una lampada a forma di stella la visione di una città straniera totalmente sconosciuta alla mia fantasia non avevo mai visto un'immagine di Praga nella mia mente era solo un nome variamente associato ai pochi ricordi di glorie imperiali e di guerre religiose nelle mie precedenti esperienze in fatto di sogni non mi era mai accaduto qualcosa del genere anzi spesso avevo provato un senso di mortificazione perché solo il frequente terrore degli incubi che li accompagnava aveva a volte impedito ai miei sogni di venire definiti sconnessi e banali ma non potevo credere di aver dormito ricordavo distintamente il graduale manifestarsi della visione come nuove immagini su uno scenario in dissolvenza o come un panorama che si fa nitido allorché il sole dissolve il velo della nebbia mattutina e mentre ero conscio dell'inizio di questa visione mi ricordavo al tempo stesso di Pier entrato per annunciare a mio padre che il signor Filmor lo stava aspettando e di mio padre che usciva in fretta dalla stanza no non era stato un sogno forse era e il pensiero mi si riempì di trepida esultanza era il dono della poesia finora solo torbide e travagliata sensibilità che improvvisamente si mutava in una spontanea creazione di certo era così che Omero aveva visto la pianura di Troia e Dante le dimore dei trapassati e Milton il volo verso la terra del tentatore forse la mia malattia era la causa di tanti felici mutamenti nella mia personalità era stata lei a ridare una più ferma tensione ai miei nervi a rimuovere qualche oscuro impedimento avevo letto avevo letto spesso di effetti simili ma in opere della fantasia o meglio no anche in alcune biografie autentiche si parlava dell'influsso esaltante stimolante esercitato da alcune malattie sulle facoltà mentali forse che l'ispirazione di Novalis non era divenuta più intensa mano a mano che progrediva la consunzione della tisi quando la mia mente si fu soffermata per qualche tempo su questa idea così esaltante pensai che forse potevo verificarla con uno sforzo di volontà la visione era cominciata mentre mio padre stava parlando del nostro viaggio a Praga eppure per un attimo mi era venuto in mente che si trattasse di una vera e propria rappresentazione di quella città credevo speravo che fosse un'immagine che il mio genio finalmente libero aveva dipinto in un istante con i colori ricavati da qualche ricordo sepolto supponiamo che ora avessi fissato la mia mente su qualche altro luogo Venezia ad esempio tanto più familiare di Praga alla mia immaginazione forse avrei ottenuto lo stesso risultato mi concentrai su Venezia stimolai la mia fantasia con ricordi poetici e mi sforzai di sentirmi davvero a Venezia così come prima mi ero sentito a Praga in vano riuscivo solo a dare nuovi colori alle incisioni del canaletto appese nella mia stanza ad un tempo a casa la scena era mutevole e la mia mente vagava in vano alla ricerca di immagini più vivide non percepivo nessuna forma nessuna ombra senza un consapevole lavorio mentale che la provocasse tutto era sforzo prosaico e non la rapita passività sperimentata mezz'ora prima ero scoraggiato ma mi dissi che l'ispirazione è volubile per diversi giorni rimasi in uno stato di eccitata aspettativa attento a qualche altra manifestazione del mio nuovo dono feci correre il pensiero su tutto ciò che conoscevo nella speranza di poter trovare qualcosa che avrebbe risvegliato con una qualche vibrazione il mio talento assopito nulla il mio mondo rimaneva come sempre nell'ombra e quel lampo di strana luce non volle ritornare sebbene lo attendessi con fremente impazienza mio padre mi accompagnava ogni giorno in una gita in carrozza e in una passeggiata a piedi che man mano che mi ritornavano le forze si faceva sempre più lunga una sera concordammo che sarebbe passato a prendermi il giorno dopo alle 12 per andare a scegliere insieme un carillon e altri oggetti che di rigore acquistare per qualsiasi inglese abbastanza ricco in visita a Ginevra quando avevo un appuntamento con mio padre ero sempre in ansia per farmi trovare pronto allora stabilita perché era il più puntuale degli uomini e dei banchieri ma con mia grande sorpresa alle 12 e un quarto non era ancora arrivato sentivo in me tutta l'impazienza di un convalescente che non ha nulla da fare e che ha appena ricavato un po' di eccitazione dalla prospettiva di distrarsi e di fare del moto incapace di stare seduto ed economizzare le mie energie camminavo in su e in giù per la stanza guardando al di fuori il corso del rodano proprio dove si stacca dall'aguazzurro cupo e al tempo stesso pensando a cosa mai avesse potuto causare il ritardo di mio padre ad un tratto mi accorsi che mio padre era nella stanza ma non da solo con lui c'erano altre due persone strano non avevo udito alcun passo non avevo visto aprirsi la porta tuttavia vedevo mio padre e alla sua destra la nostra vicina la signora Fillmore che ricordavo benissimo benché fossero cinque anni che non la vedevo era una donna di mezza età dall'aspetto piuttosto comune vestita di seta e cashmere la signora alla sinistra di mio padre invece doveva avere non più di vent'anni una persona alta snella con fluenti capelli biondi acconciati in trezze e riccioli troppo elaborati e voluminosi per coronare la figurina flessuosa e il volto dai lineamenti minuti e dalle labbra sottili il suo viso non aveva un aspetto giovanile i lineamenti erano affilati e gli occhi grisocchiaro erano al tempo stesso penetranti inquieti e sarcastici erano fissi su di me quegli occhi con un'aria di divertita curiosità e io provai una penosa sensazione come se un vento tagliente mi passasse attraverso il corpo il vestito verde pallido e le foglie che sembravano incorniciare il biondo chiaro dei capelli mi fecero pensare a Waternixi la dea delle acque la mia mente era infarcita di poesia tedesca e questa pallida donna dallo sguardo fatale nelle sue vesti verdi mi appariva come nascente da gelide acque piene di giunchi quasi la figlia di un antico fiume dunque Latimer pensavi che fossi in ritardo disse mio padre ma appena ebbi udita la sua ultima parola l'intero gruppo svanì e tra me e il paravento cinese dipinto che si trovava davanti alla porta non c'era più nulla mi sentì di ghiaccio fui solo capace di barcollare in avanti e gettarmi sul divano quel mio strano nuovo potere si era ancora manifestato ma era un potere non si trattava piuttosto di una malattia una sorta di delirio intermittente che concentrava le mie facoltà mentali in attime di attività frenetica lasciando ancora più povere le mie ore di normalità tutto ciò su cui posavo lo sguardo mi appariva irreale mi aggrappai convulsamente al campanello come a volermi liberare da un incubo e suonai due volte subito arrivò Pierre con un'espressione preoccupata messie se ne trovi pas bien chiese con ansia sono stanco di aspettare Pierre dissi con tutta la chiarezza e l'energia che potei come che ha deciso a mostrarsi sobrio nonostante il vino bevuto ho paura che sia accaduto qualcosa a mio padre di solito è così puntuale fai una corsa all'hotel de berghet e vedi sei ancora là Pierre lascia subito la stanza con un rassicurante del messier la semplice brosaica realtà di questa scena mi sollevò alquanto andai nella mia camera da letto adiacente al soggiorno prese un flacone di acqua di colonia e con grande cura tolsi il tappo e mi strofinai quell'assenza tonificante sulle mani sulla fronte e sotto le narici traendo un rinnovato piacere da quel profumo perché me lo ero procurato attraverso molti piccoli attenti gesti e non per qualche improvvisa e folla ispirazione avevo già cominciato a sperimentare qualche cosa degli orrori dati in sorte a coloro la cui natura supera i confini della semplice condizione umana godendo ancora della freschezza del profumo tornai in salotto ma non era vuoto come quando lo avevo lasciato davanti al paravento cinese c'era mio padre con la signora filmor alla sua destra e alla sua sinistra la snella ragazza bionda dai linamenti affilati e dagli occhi penetranti fissi su di me con divertita curiosità dunque latimer pensavi che fossi in ritardo disse mio padre non udì non vedi più nulla finché non presi coscienza di essere sdraiato sul divano con la testa in basso Pierre e mio padre mi stavano accanto appena mi fui riavuto del tutto mio padre lasciò la stanza e ritornò dicendo ho informato le signore sulle condizioni della tua salute latimer erano in attesa nella stanza accanto per oggi sarà meglio che rinunciamo al nostro giro di acquisti subito dopo aggiunse la signora più giovane è berta grant una nipote orfana della signora filmor il signor filmor l'ha adottata e ora vive con loro così sarà nostra vicina quando torneremo a casa forse sarà anche qualcosa di più perché ho il sospetto che tra lei e alfred ci sia del tenero e io lo riterrei un fidanzamento soddisfacente visto che il signor filmor intende provvedere per lei in tutto e per tutto come se fosse sua figlia non ricordavo che tu non sapessi che vive con i filmor non fece altre allusioni al fatto che fosse svenuto vedendola e di certo io per nulla al mondo gliene avrei dato la ragione rifiutavo l'idea di rivelare a chiunque quella che avrebbe potuto essere considerata una penosa anomalia e meno che mai a mio padre che avrebbe dubitato per sempre della mia sanità mentale non intendo soffermarmi minuziosamente sui particolari della mia esperienza ho descritto ho descritto in modo dettagliato questi due casi perché hanno avuto effetti evidenti e determinanti sul mio destino poco tempo dopo quest'ultimo fatto credo proprio il giorno seguente cominciai a rendermi conto di un aspetto della mia abnorme sensibilità al quale data la natura vaga e superficiale dei rapporti con le altre persone dal tempo della mia malattia non avevo fatto caso si trattava del trasferimento dei processi mentali di quelli che mi circondavano nel mio proprio pensiero le riflessioni frivole e sconnesse di qualche conoscente di nessuna importanza come la signora Fillmore ad esempio si imponevano alla mia percezione come la voce di uno strumento musicale importuno e stonato o l'infaticabile ronzio di un insetto prigioniero ma questa sgradevole recettività era intermittente e mi lasciava attimi di tregua in cui l'animo di chi mi stava vicino tornava ad apparirmi ermeticamente chiuso e in cui provavo un sollievo come quello che il silenzio dona a dei nervi affaticati avrei potuto credere che questo mio dono importuno fosse solo un malsano esercizio dell'immaginazione ma il fatto che riuscissi ad anticipare parole e azioni del tutto imprevedibili provava che ero in qualche modo in contatto con le menti degli altri questo fenomeno sgradevole e fastidioso quando intrattenevo rapporti con persone qualsiasi diveniva fonte di intensa pena e dolore quando sembrava aprirmi l'animo di coloro che mi erano molto vicini quando i discorsi razionali le attenzioni cortesi le frasi brillanti che costituiscono il tessuto dei loro caratteri erano visti come isolati in una specie di immagine al microscopio in cui balzavano fuori tutte le sottintese futilità tutto l'egoismo represso tutto l'insieme caotico di puerilità di bassezza di ricordi astiosi di pensieri nascosti volti all'indifferenza e la non curanza che facevano apparire le parole e le azioni umane come foglie messe a coprire una massa di rifiuti in continua fermentazione a Basilea fumo raggiunti da mio fratello Alfred divenuto ormai a 26 anni un bell'uomo sicuro di sé in stridente contrasto con la mia personalità fragile nervosa e inconcludente credo che a quel tempo mi si attribuisse una certa bellezza un po' femminea e un po' spettrale infatti alcuni pittori specializzati in ritratti di cui Ginevra è piena mi avevano spesso domandato di posare per loro e una volta avevo fatto da modello per un dipinto di genere che rappresentava un menestrello morente io tuttavia detestavo il mio aspetto fisico e solo la convinzione che fosse necessario come sostegno del mio genio poetico avrebbe potuto farmi riconciliare con esso questa tenue speranza era ormai quasi del tutto svanita e nel mio viso non vedevo altro che i segni di una costituzione malsana fatta per subire passivamente il dolore trappodebole per le sublime fatiche della creazione poetica Alfred dal quale ero stato quasi sempre lontano e che nel suo attuale stadio di sviluppo fisico e morale mi appariva come un perfetto estraneo cercava di essere estremamente amichevole e fraterno nei miei confronti aveva la gentilezza superficiale di un carattere semplice e soddisfatto di sé che non teme rivali e non ha mai conosciuto contrarietà non sono sicuro di essere sempre stato così ben disposto verso di lui da non averlo mai invidiato anche quando i nostri desideri non si erano ancora scontrati e di essermi mai trovato in quello stato d'animo che accetta le confidenze generose e le buone intenzioni tra le nostre due nature deve esserci stata una naturale antipatia così in poche settimane egli divenne l'oggetto del mio odio più intenso quando entrava in una stanza dove ero anch'io e ancor più quando parlava provavo una sensazione di stridore metallico che mi faceva serrare i denti la mia abnorme percezione si fissava di continuo e con maggiore intensità nei suoi pensieri e nelle sue emozioni più che su quelli di chiunque altro ero esasperato ogni momento dalle meschine manifestazioni della sua presunzione dalla sua predilezione per gli atteggiamenti protettivi dalla compiaciuta certezza della passione di Berta Grant per lui dal disprezzo ammantato di pietà che provava per me che mi si rivelavano non dal tono della voce dalle parole da ciò che faceva cose a cui una mente acuta e sospettosa presta comunque attenzione bensì nel loro semplice nudo meccanismo insomma eravamo rivali nei nostri desideri anche se lui non era consapevole non ho ancora detto nulla dell'effetto che Berta Grant produsse su di me dopo una più stretta conoscenza questo effetto fu determinato soprattutto dal fatto che unica eccezione tra quanti mi stavano intorno e la sfuggiva al mio disgraziato dono della preveggenza riguarda Berta ero sempre in uno stato di incertezza potevo studiare l'espressione del suo viso tentare di interpretarne il significato potevo chiedere la sua opinione con l'effettivo interesse di chi la ignora potevo ascoltare le sue parole e attendere un suo sorriso con speranza o timore aveva per me il fascino di un destino sconosciuto dico che fu soprattutto questo il motivo del forte ascendente di Berta su di me perché in teoria nessun carattere femminile sembrava avere meno affinità del suo con quello di un giovane ritroso romantico e appassionato qual ero io Berta era pungente sarcastica priva di fantasia precocemente cinica restava critica e fredda davanti alle scene più commoventi si divertiva a sezionare parole per parole le mie poesie preferite ed era particolarmente sprezzante verso i lirici tedeschi che a quel tempo erano la lettura che amavo di più fino a questo momento non sono stato capace di definire i miei sentimenti verso di lei non era una semplice infatuazione giovanile perché era assolutamente l'opposto perfino nel colore dei capelli della donna ideale che per me internava la bellezza e poi non provava quell'entusiasmo per le cose grandi ed elevate che anche nel momento in cui il suo dominio su di me era al culmine continuai a reputare l'elemento più nobile del carattere umano ma non esiste tirannia più assoluta di quella che una natura egocentrica e negativa può esercitare su un'altra natura morbosamente sensibile sempre in cerca di simpatia e di sostegno anche le persone più indipendenti reagiscono al silenzio di qualcuno aumentando la loro considerazione per le sue opinioni provano maggior soddisfazione ad accattivarsi il rispetto di un individuo abitualmente critico capzioso e malevolo nessuna meraviglia dunque che un giovane esaltato e completamente privo di fiducia in se stesso restasse in vicina attesa di fronte all'impenetrabile segreto di un volto di donna come se fosse l'altare di una divinità dall'incerta benevolenza che ne dominasse il destino un giovane appassionato non sa concepire in un'altra mente la completa assenza di quei sentimenti che lo fanno vibrare magari sono flebili latenti inattivi ma devono esserci forse possono venire risvegliati talvolta in qualche attimo di felice allucinazione sarà portato a credere che essi sono presenti in tutta la loro forza proprio perché non riesce a scorgerne alcun segno e questo come ho già detto si verificava in me al massimo grado perché Berta era la sola persona che rimanesse per me in quella misteriosa esclusione spirituale che rende possibili queste delusioni giovanili e poi indubbiamente arriva anche un altro tipo di fascino quella indefinibile attrazione fisica che gode nel farsi beffe delle nostre previsioni psicologiche e che spinge gli uomini che dipingono silfidi a innamorarsi di qualche buon e bravo femme dal passo pesante e piena di lentiggini il comportamento di Berta verso di me era tale da incoraggiare tutte le mie illusioni da attizzare la mia giovanile passione e da rendermi sempre più schiavo dei suoi sorrisi riandando a quella situazione con la sconsolata saggezza di oggi devo concludere che la sua vanità e il suo desiderio di dominio dovevano sentirsi molto gratificati dalla convinzione che fossi svenuto la prima volta che l'avevo vista per la forte impressione che la sua persona aveva prodotto su di me anche alla donna più prosaica piace credere di essere l'oggetto di una violenta poetica passione e anche senza avere in sé una brisola di romanticismo Berta possedeva quel gusto per l'intrigo che le rendeva piccante l'idea che il fratello dell'uomo destinato a sposarla morisse d'amore e di gelosia per lei e poi intendesse sposare mio fratello a quel tempo davvero non lo credevo infatti sebbene le attenzioni di Alfred fossero sempre assidue e sapessi bene che sia lui che mio padre erano già decisi a compiere questo passo non c'era stato ancora nessun fidanzamento ufficiale nessuna dichiarazione esplicita di solito Berta mentre ci vettava con mio fratello e accettava la sua corte in modo da fargli capire che ne gradiva le intenzioni mi faceva credere con le parole e gli sguardi più discreti piccole astuzie femminili che non si sarebbero mai potute ritorcere contro di lei che egli era in realtà l'oggetto della sua segreta derisione che lo considerava come me solo un bell'imbusto che sarebbe stata lieta di lasciare deluso mi coccolava apertamente in presenza di mio fratello come se fossi troppo giovane e malaticcio per essere preso per un innamorato e così mi considerava anche lui ma credo che nel suo intimo godesse del turbamento in cui mi gettava carecciandomi i riccioli ridendo alle mie citazioni poetiche queste carezze mi venivano sempre fatte alla presenza dei nostri amici quando eravamo soli mi teneva a maggior distanza cogliendo però ogni tanto l'occasione con le parole o con qualche piccolo gesto per incoraggiare la mia timida sciocca speranza di essere il suo preferito e perché non avrebbe dovuto seguire la sua preferenza non avevo è vero una posizione brillante come mio fratello ma ero ricco ero poco meno di un anno più giovane di lei e lei stessa era un'ereditiera ben presto in età di decidere da sola alternarsi di timori e speranze che indirizzavo in questa sola direzione trasformava ogni giorno trascorso con lei in un delizioso tormento e fu poi un gesto deliberato da parte sua che contribuì ancora di più a farmi perdere il senso della realtà durante il periodo del nostro soggiorno a Vienna Berta compieva vent'anni e siccome amava molto i gioielli profittammo tutti dell'occasione offerta dai magnifici negozi di quella Parigi tedesca per comprarle dei gioielli come regalo di compleanno il mio naturalmente fu il più modesto un anello di opale l'opale era la mia pietra preferita perché sembra accendersi e poi ritornare pallido come se avesse un'anima lo dissi a Berta quando glielo donai e aggiunsi che era un emblema della nostra natura poetica che cambia al cambiare della luce del cielo e degli occhi delle donne quella sera lei si presentò vestita con grande eleganza portando bene in vista tutti i regali di compleanno ricevuti tutti tranne il mio le guardai con ansia le dita ma l'opale non c'era non ebbi occasione durante la serata di farglielo notare ma il giorno seguente dopo la prima colazione quando la trovai seduta da sola davanti alla finestra le dissi hai vergogna di portare il mio povero opale avrei dovuto ricordare che disprezzi le nature poetiche dovevo regalarti un corallo un turchese o qualche altra pietra opaca e insensibile io disprezzarlo rispose e tirando una sottile catenella d'oro che portava sempre al collo la trasse del tutto fuori dalla scollatura alla sua estremità era appeso il mio anello mi fa un po' male ti confesso continuò con il suo solito sorriso enigmatico portarlo in questo nascondiglio segreto ma visto che la tua natura poetica è così sciocca da preferire una posizione più esposta al pubblico non c'è ragione per cui tu debba sopportare più a lungo questo fastidio si l'ho l'anello dalla catenina e se lo mise al dito sempre sorridendo mentre il sangue mi saliva alle gote e non ero in grado di pronunciare neppure una parola per pregarla come avrei voluto di lasciare l'anello dove era questo gesto mi scombussolò del tutto e per due giorni interi me ne stetti rinchiuso nella mia stanza tutto il tempo che Berta era assente per potermi inebriare di nuovo ripensando a questa scena e a tutti i sottintesi che implicava bisognava dire che durante questi due mesi che mi sembrarono lunghi come una vita per la novità e l'intensità delle gioie e dei dolori che conobbi la mia morbosa partecipazione alle coscienze altrui continuò a tormentarmi ora si trattava ora di mio padre ora di mio fratello ora della signora Fillmore o di suo marito ora del nostro domestico tedesco una corrente di pensieri mi si rovesciava addosso come un frastuono nelle orecchie da cui non ce la facevo più a liberarmi anche se non impediva ai miei impulsi e alle mie idee di continuare il loro libero corso era come se un soprannaturale senso dell'udito mi consentisse di percepire un rombo di suono là dove per gli altri era un perfetto silenzio la fatica e il disgusto di questa involontaria intromissione nell'animo altrui erano compensati solo dall'impenetrabilità di Berta e dalla mia crescente passione per lei passione enormemente stimolata se non addirittura creata proprio da quel mio non sapere era la mia oasi di mistero nello squallido deserto della consapevolezza ero sempre stato attento a non far trasparire nulla che potesse rivelare la mia infelice condizione a evitare azioni o discorsi stravaganti tranne una volta quando in un momento di particolare rancore verso mio fratello anticipai alcune parole che stava per pronunciare una frase piuttosto spiritosa che si era preparata in anticipo Alfred aveva spesso delle esitazioni un po' compiaciute nel parlare e nella pausa di un istante che fece prima della seconda parola la mia impazienza e la mia gelosia mi spinsero a continuare la frase per lui come se fosse qualcosa che conoscessimo entrambi a memoria divenne rosso e rimane sbigottito oltre che seccato nell'istante stesso in cui le parole mi erano sfuggite di bocca ebbi come un moto di panico temendo che quell'anticipazione del suo discorso tutt'altro che scontato e facile da prevedere avesse tradito la mia eccezionale facoltà facendomi apparire come una specie di tranquillo invasato che tutti verte per prima avrebbero temuto ed evitato ma come al solito esageravo l'impressione che i miei gesti e le mie parole potevano provocare sugli altri nessuno mostrò di aver considerato la mia interruzione nulla più di uno sgarbo da perdonare subito considerando la mia fragilità nervosa mentre questa eccessiva percezione del presente era in me pressoché costante non si era più ripetuta alcuna distinta preveggenza come quella che ho descritto a proposito del mio primo incontro con Berta e attendevo con impaziente curiosità di poter controllare se la mia visione di Praga si sarebbe dimostrata o no come un caso dello stesso genere pochi giorni dopo l'incidente dell'anello di Opale ci trovammo a visitare come facevamo spesso il palazzo di Lichtenberg non sono mai stato in grado di guardare molti quadri in successione i dipinti quando si esprimono con vera potenza mi colpiscono così forte che ne bastano uno o due per esaurire tutte le mie capacità di contemplazione quella mattina avevo ammirato un dipinto di Giorgione una dama dagli occhi crudeli che si ritiene rappresenti l'immagine di Lucrezia Borgia era rimasto a lungo ad osservarlo affascinato dal terribile realismo di quel volto astuto inesorabile finché percepì una strana velenosa sensazione come se avessi respirato a lungo un profumo fatale e mi stessi rendendo conto solo in quel momento dei suoi effetti forse non mi sarei mosso neanche allora se il resto del gruppo non fosse tornato nella sala annunciandomi che sarebbero andati alla galleria del Belvedere per via di una scommessa tra mio fratello e signor Filmor sul ritratto li ha esposto mi seguì come in sogno ben poco cosciente di quanto accadeva intorno a me finché non salirono tutti alla galleria lasciandomi di sotto poiché mi ero rifiutato di guardare ancora anche un altro solo quadro per quel giorno mi diresti verso la grande terrazza perché eravamo d'accordo che ci saremmo ritrovati nei giardini una volta risolta la controversia rimasi lì seduto per un po' vagamente conscio del giardino ben curato con la città e le verdi colline in lontananza poi per evitare la compagnia del guardiano mi alzai e scesi i larghi gradini di pietra con l'intenzione di andarmi a sedere in un punto più inoltrato del giardino avevo appena raggiunto il viale ghiaioso quando senti un braccio intrezzarsi al mio e una mano leggera posarsi dolcemente sul mio polso in quello stesso istante fui colto da uno strano malefico sgomento quasi la continuazione o meglio il culmine della sensazione che mi sentivo addosso per lo sguardo di Lucrezia Borgia il giardino il cielo d'estate la certezza del braccio di Berta intrecciato al mio tutto svanì e mi sembrò di trovarmi improvvisamente nelle tenebre poi cominciai a poco a poco a distinguere la fioca luce di un cammino acceso e mi parvi di trovarmi a casa in biblioteca seduto nella poltrone di cuoio di mio padre riconoscevo il cammino gli allari per il fuoco la mensola di marmo nero con al centro il medaglione bianco la figurante Cleopatra morente una pena intensa e senza speranza mi gravava il petto la luce si faceva più vivida Berta entrò con una candela in mano Berta mia moglie e mi guardava con occhi crudeli portava gioielli verdi e verdi foglie ricamate sull'abito da ballo bianco ogni suo pensiero carico d'odio era chiarissimo dentro di me pazzo idiota perché non ti uccidi allora fu un momento terribile Lessi nella sua anima spietata vide la sua arida avidità l'odio feroce senti che mi si avvolgeva intorno come un'aria che fossi costretto a respirare venne avanti con la sua candela e rimase china su di me con un sorriso amaro e pieno di disprezzo vidi la grande spilla di smeraldo che aveva sul petto un serpente tempestato di pietre con gli occhi di diamante rabbrividi disprezzavo quella donna dall'anima arida e dai pensieri meschini ma mi sentivo senza difesa di fronte a lei come se torcesse tra le sue mani il mio cuore sanguinante e fosse decisa a stringerlo finché ogni goccia di sangue non ne fosse stillata via era mia moglie e ci odiavamo pian piano il camino la biblioteca in penombra la fiamma della candela svanirono come se si dissolvessero su uno sfondo di luce solo il serpente verde con gli occhi di diamante rimaneva come una traccia oscura sulla retina poi ebbi la sensazione di un rapido battito di palpebre e su di me si aprì la vivida luce del giorno vidi il giardino udì le voci ero seduto sui gradini della terrazza del bel vedere i miei amici mi stavano intorno la confusione mentale in cui mi gettò questa tremenda visione mi fece star male per diversi giorni e prolungò il nostro soggiorno a vien remevo di orrore ogni volta che la scena mi si ripresentava alla mente e si ripresentava di continuo nei minimi dettagli come se si fossero impressi a fuoco nella mia memoria eppure tale è la follia del cuore umano sotto l'influsso dei suoi desideri immediati sentivo una gioia temeraria selvaggia dal pensiero che Berta sarebbe stata mia perché l'avverarsi della mia precedente visione al momento del nostro primo incontro lasciava poche speranze che quest'ultimo orribile squarcio sul futuro fosse solo un gioco della mia fantasia e non avesse alcun rapporto con la realtà solo una cosa pensai avrebbe potuto gettare qualche dubbio sulla mia terribile convinzione la scoperta che la mia visione di Praga non rispondesse a verità e Praga era la prossima tappa del nostro itinerario intanto non appena mi trovai di nuovo con Berta ricaddi come prima sotto la sua completa influenza che importanza aveva aver letto nel cuore di Berta adulta e donna di Berta mia moglie Berta la ragazza era ancora per me un mistero affascinante fremevo alle sue carezze sentivo il fascino della sua presenza ero impaziente di sentirmi sicuro del suo amore la paura di avvelenarsi è troppo debole per dominare la sete e nei riguardi di mio fratello ero geloso come prima altrettanto suscettibile ai suoi meschini atteggiamenti protettivi perché il mio orgoglio la mia sensibilità malata erano gli stessi di sempre e si contraevano ad ogni offesa come un occhio quando vi entra un granello di polvere il futuro anche se portato nel raggio della percezione sensibile da una visione da far rabbrividire non aveva altra forza che quella di un'astrazione contro la forza dell'emozione presente il mio amore per Bertha l'avversione e la gelosia verso mio fratello una vecchia storia gli uomini si vendono spontaneamente al diavolo tentatore e firmano un patto con il loro sangue solo perché scadrà in un giorno lontano poi si precipitano ad afferrare la coppa di cui la loro anima ha sete con uno slancio che la nera nube che li accompagnerà in eterno non rende meno selvaggio non vi sono scorciatoie né binari sicuri per la saggezza dopo tanti secoli di scoperte il sentiero dell'anima passa ancora per uno spinoso deserto da affrontare in solitudine con i piedi sanguinanti con grida di aiuto rotte dai singhiozzi così come veniva percorso da tutti gli altri uomini nei tempi lontani la mia mente rifletteva in modo febbrile cercando il mezzo per poter soppiantare mio fratello poiché avevo troppo timore non conoscendo i veri sentimenti di Berta di azzardare qualsiasi passo che potesse spingerla ad una confessione avrei trovato il coraggio anche per questo pensavo se la mia visione di Praga si fosse rivelata veritiera eppure che orrore in quella certezza a fianco della snella giovane Berta di cui aspettavo ansiosamente le parole e gli sguardi il cui contatto era la felicità appariva di continuo l'Aberta dalle forme più mature gli occhi più duri la bocca più rigida con la sua anima arida ed egoista messa a nudo non più un affascinante segreto ma una realtà innegabile che si imponeva ogni momento al mio sguardo riluttante sareste capaci di negarmi la vostra compassione voi che mi state leggendo riuscite a immaginare questa doppia coscienza che agiva in me simile a due corsi d'acqua paralleli che mai uniscono le loro acque mai si confondono in un unico gorgoglio eppure dovreste sapere qualcosa dei presentimenti che nascono dal contrasto fra un'intuizione e la passione le mie visioni infatti altro non erano che presentimenti intensificati fino all'orrore avete conosciuto l'impotenza dell'idea contro la forza dell'impulso e le mie visioni una volta passate nella memoria altro non erano che idee pallide ombre che mi ammonivano in vano mentre le mie mani volevano afferrare cose concrete e amate molto più tardi ho pensato con amaro rimpianto che se avessi potuto prevedere qualcosa di più o di diverso se invece di quella visione odiosa che avvelenò il mio amore senza poterlo distruggere o magari insieme ad essa avessi potuto presagire il momento in cui avrei guardato per l'ultima volta il viso di mio fratello un balsamo consolatore sarebbe sceso sui miei sentimenti per lui l'odio e l'orgoglio sarebbero stati certamente addolciti dalla pietà e il racconto dei miei peccati nascosti sarebbe risultato più breve ma questo è uno di quei pensieri inutili con i quali noi uomini amiamo illudersi ci piace credere che l'egoismo che è in noi avrebbe potuto dissolversi facilmente che è stata solo la pochezza delle nostre conoscenze a limitare la nostra generosità i nostri scrupoli la nostra umana pietà e a impedire loro di vincere la dura indifferenza verso le emozioni e i sentimenti dei nostri simili la nostra tenerezza la nostra forza di rinuncia ci sembrano grandi una volta che l'egoismo ha avuto il suo momento quando dopo aver tanto inseguito una vittoria che è la rovina di qualcun altro questa vittoria finalmente arriva e noi la disprezziamo perché ci viene offerta dalla gelida mano della morte songemmo a Praga di notte e io ne fui lieto mi sembrò che stare nella città per diverse ore senza poterla vedere fosse come il rinvio di un momento terribile decisivo non dovevamo restare a lungo a Praga ma proseguire quasi subito per Dresda così fu deciso che la mattina successiva avremmo fatto un giro in carrozza per dare uno sguardo d'insieme alla città e visitare i luoghi più significativi prima che il caldo diventasse troppo opprimente eravamo infatti in agosto e la stagione era secca e affosa accadde però che le signore impiegarono più tempo del previsto nei loro preparativi mattutini e con un percettibile anche se nascosto dalle buone maniere malumore di mio padre salimmo in carrozza solo a mattina inoltrata mentre entravamo nel quartiere ebraico dove volevamo visitare l'antica sinagoga pensai con sollievo che saremmo rimasti in quella parte piatta e chiusa della città perché troppo stanchi e accaldati per proseguire oltre avremmo fatto ritorno senza vedere altro che le strade dove eravamo già passati questo mi avrebbe tenuto per un altro giorno l'animo in sospeso l'unico mezzo per uno spirito oppresso di non perdere la consolazione della speranza ma quando sotto le volte annerite dell'antica sinagoga scarsamente illuminate solo dalle sottili candele della lampada sacra la nostra guida ebrea prese il libro della legge e lo lesse per noi nella sua antica lingua senti con un brivido che quello strano edificio dalle luci fioche quella decrepita testimonianza dell'ebraismo medioevale faceva parte della mia visione o quei santi cristiani anneriti e polverosi sotto le loro arcate più alte fra i loro cieli più grandi avrebbero potuto consolarsi indicando con disprezzo quella vita ben più decrepita della loro come mi aspettavo quando lasciamo il quartiere ebraico i più anziani del nostro gruppo avevano desiderio di ritornare in albergo ma ora invece di rallegrarmene come avevo fatto prima provai un improvviso irresistibile impulso a procedere senza indugio fino al ponte e mettere così fine a quell'incertezza che avevo cercato in ogni modo di prolungare dissi con fermezza insolita che avrei lasciato la carrozza per proseguire a piedi da solo potevano pure fare ritorno senza di me mio padre pensando che si trattasse soltanto di una delle mie solite poetiche assurdità obiettò che camminare sotto quella canicola non mi avrebbe fatto che male però alle mie insistenze disse con rabbia che ero libero di seguire i miei assurdi propositi a patto che Schmidt il nostro domestico fosse venuto con me accettai e mi incamminai con Schmidt verso il ponte non avevo neppure oltrepassato l'arcata del grande cancello antico che dà accesso al ponte che cominciai a tremare sentendomi di ghiaccio sotto il sole di mezzogiorno tuttavia proseguì cercavo qualcosa un piccolo dettaglio della mia visione che ricordavo con particolare intensità e lo trovai la macchia di luce multicolore proiettata sul selciato attraverso una lampada a forma di stella parte seconda prima che finisse l'autunno quando le foglie ingiallite erano ancora fitte sui faggi del nostro parco mio fratello e Berta si fidanzarono e venne deciso che il loro matrimonio avrebbe avuto luogo all'inizio della primavera successiva nonostante la certezza acquisita fin da quel momento sul ponte di Praga che Berta sarebbe stata un giorno mia moglie la mia timidezza congenita e la sfiducia avevano continuato a paralizzarmi e le parole tante volte preparate per confessare il mio amore erano morte senza mai essere state pronunciate come prima restava in me lo stesso conflitto il desiderio di una prova d'amore dalle labbra stesse di Berta e la terribile paura di riceverne una parola di rifiuto o di disprezzo che mi sarebbe pievuta addosso come un acido corrosivo cosa mi importava di una certezza lontana io tremavo per uno sguardo del presente bramavo una gioia del presente ero paralizzato e gelato da una paura presente e così passarono i giorni fui spettatore del fidanzamento di Berta e udì parlare del suo matrimonio come se mi trovassi sotto l'effetto di un incubo cosciente sapendo che era un sogno che sarebbe svanito ma sentendomi preso in una stretta soffocante quando non mi trovavo con Berta e stavo con lei molto spesso perché continuava a trattarmi come al solito con quella specie di scherzosa protezione che non risvegliava alcuna gelosia in mio fratello passavo il mio tempo vagabondando facendo passeggiate o lunghe cavalcate finché non veniva il tramonto per poi ricudermi nella mia stanza con i miei libri che non leggevo più poiché i libri avevano perso il potere di avvincere la mia attenzione il continuo studio di me stesso era arrivato a quel grado di intensità in cui le nostre emozioni assumono la forma di un dramma imponendosi irresistibilmente alla nostra attenzione e facendoci piangere non tanto per le nostre reali sofferenze quanto per il loro pensiero sentivo una specie di dolorosa pietà per il mio sfortunato destino il destino di una creatura totalmente votata al dolore con nulla in sé che potesse fargli conoscere il piacere che il pensiero del male futuro derubava della gioia presente e che il pensiero di una gioia futura non riusciva a consolare di un tormento presente e un presente timore passai in silenzio attraverso quelle sofferenze che per un poeta sono lo spasimo esaltante dell'espressione e creano un'immagine del proprio dolore nessuno mi rimproverà mai questa vita allucinata e vagabonda sapevo quel che mio padre pensava di me un ragazzo che non farà mai niente di buono nella vita vista la rendita che gli spetta può anche permettersi di spercare gli anni in modo insulso non mi prenderò certo la pena di fargli iniziare una carriera un tiepido mattino ai primi di novembre me ne stavo fuori sul portico carezzando Cesare un pigro vecchio terranover è ormai quasi cieco dagli anni l'unico cane che mi abbia mai prestato attenzione e che perfino i cani mi sfuggivano per andarsi ad accucciare davanti alle persone felici quando lo stagliere portò il cavallo che mio fratello voleva montare per andare a caccia e mio fratello in persona parde sulla porta florido impettito contento di sé convinto che una persona come lui proprio per la sua grande superiorità aveva il dovere di non essere sgarbato con i suoi simili latimer vecchio mio mi disse in tono cordialmente compassionevole peccato che tu non faccia una galoppata con i cani ogni tanto è il miglior rimedio contro la depressione depressione pensai con amarezza mentre il cavallo si allontanava è questa la parola con cui le persone volgarie limitate come te credono di poter definire esperienze di cui tu non potrai mai sapere niente di più di quanto ne sa il tuo cavallo è a quelli come te che toccano in sorte le cose buone di questo mondo insensibilità totale sano egoismo tronfi allegria ecco le chiavi della felicità per un attimo mi sfiorò il pensiero che il mio egoismo era forse più grande del suo un egoismo sofferente invece di un egoismo soddisfatto ma poi ancora una volta fui esasperato dalla mia veggenza nell'animo di Alfred così soddisfatto senza alcun dubbio o paura senza aspirazioni inappagate senza tutte quelle sottili torture della sensibilità che rappresentavano il tessuto della mia esistenza tutto questo sembrava sciogliermi da ogni legame con lui no quell'uomo non aveva bisogno di pietà né di amore quei sentimenti delicati avrebbero avuto tanto effetto su di lui quanto ne ha la tenue bianca bruma sulle rocce dove si posa dolcemente non c'erano dolori in serbo per lui se non avesse sposato Berta sarebbe stato solo per seguire un'altra strada che lo attirava di più la casa del signor filmor stava non più di mezzo miglio dai cancelli della nostra proprietà e tutte le volte che mio fratello se ne andava in un'altra direzione mi ci recavo sperando di trovare Berta in casa poco più tardi dunque mi avviai da quella parte eccezionalmente era sola e passeggiamo insieme davanti alla casa di rado si spingeva a piedi oltre i viali ben curati e coperti di gaia ricordo che mentre il pallido sole di novembre brillava sulla sua chioma bionda mi apparve come una bellissima silfide mi camminava a fianco punzecchiandomi al solito con la sua sottile ironia mentre io l'ascoltavo tra la tenerezza e il malumore era l'unica trazza attraverso la quale la misteriosa personalità di Berta mi si rivelava quel giorno forse predominava il malumore perché non ero ancora riuscito a smaltire l'attacco di odio geloso che mio fratello aveva scatenato in me con la sua protettiva condiscendenza improvvisamente la interruppi e lasciando la sbigottita le chiesi quasi con violenza Berta come puoi amare Alfred per un istante mi guardò stupita ma subito tornò a sorridere e mi rispose con sarcasmo perché credi che io lo ami come puoi dire una cosa simile Berta così la tua saggezza ti fa pensare che io debba amare l'uomo che sposo sarebbe la cosa più spiacevole del mondo litigherai con lui ne sarai gelosa che il nostro menace andrebbe avanti in modo assai volgare un po' di tranquillo disprezzo contribuisce parecchio all'eleganza della vita Berta questi non sono i tuoi veri sentimenti perché ti diverti a ingannarmi inventando questi discorsi cinici non ho bisogno di inventare nulla per ingannarti mio piccolo tasso era questo il nomignolo con il quale mi prendeva abitualmente in giro il modo migliore per imbrogliare un poeta è dirgli la verità tentava di difendere a spada tratta la verità di quel suo paradosso e per un attimo l'ombra della mia visione una Berta che per me non aveva più segreti nell'animo passò tra me e la radiosa fanciulla la silfide giocosa i cui sentimenti erano un affascinante mistero credo di essere rabbrividito o di aver lasciato trapelare in qualche altro modo il mio momentaneo lato di orrore tasso disse lei afferrandomi i polsi e guardandomi bene in faccia stai realmente cominciando a capire la ragazza senza cuore che sono non sei neanche la metà del poeta che credevo tu fossi non riesci nemmeno a credere la verità su di me l'ombra tra noi si allontanò e svanì la fanciulla che mi stringeva con le dita leggere che mi fissava col suo affascinante volto di fata che pensavo stava tradendo un interesse per i miei sentimenti che mai avrebbe apertamente confessato questa calda viva presenza si impossessò di nuovo dei miei sensi e del mio spirito come un canto di sirena che risorge dopo essere stato soffocato per un momento dal fragore minaccioso delle onde fu un attimo dolcissimo come risvegliarsi consapevole di essere giovane dopo aver sognato la vecchiaia dimenticai ogni cosa al di fuori della mia passione e con gli occhi stralunati berta dissi mi amerai almeno all'inizio del nostro matrimonio non importa anche se mi amerai soltanto un poco il suo sguardo attonito mentre mi lasciava la mano scansandosi bruscamente da me mi fece rendere conto della mia incomprensibile sconsiderata imprudenza perdonami ripresi in fretta non appena fui di nuovo in grado di parlare non sapevo quel che stavo dicendo ah l'attacco di follia del tasso è arrivato vedo rispose con calma essendo riuscita a riprendersi prima di me lasciamolo tornare a casa a tenere la testa al fresco io devo andare comincia a far buio me ne andai furioso contro me stesso mi ero lasciato sfuggire parole che se lei vi avesse riflettuto sopra potevano farle nascere dei sospetti sulle anormali condizioni della mia mente sospetti che temevo più di ogni altra cosa al mondo e mi vergognavo anche per l'evidente indegnità che avevo commesso parlando in quel modo davanti alla promessa sposa di mio fratello la via è lentamente verso casa entrando nel parco da un cancello privato invece che da quello principale mentre mi avvicinavo vedi un uomo uscire di gran corsa dal cortile delle scuderie in fondo al parco che fosse successa una disgrazia in famiglia no probabilmente quella furia era dovuta soltanto a una delle solite urgenti commissioni d'affari di mio padre tuttavia senza un preciso motivo affrettai il passo e in breve fui a casa non mi dilungherò sulla scena che vi trovai mio fratello era morto sbalzato giù di sella dal suo cavallo ucciso sul colpo da una commozione cerebrale salì di sopra nella stanza dove giaceva e dove trovai mio padre seduto accanto a lui con uno sguardo di fredda disperazione al momento del nostro ritorno a casa avevo evitato mio padre più di ogni altra persona la radicale incompatibilità delle nostre nature rendeva la mia veggenza dei suoi più intimi pensieri un costante tormento ma ora quando lo raggiunsi e gli restai vicino in un triste silenzio sentii la presenza di un nuovo elemento che ci univa come mai prima mio padre era stato uno degli uomini di maggior successo nel mondo della finanza non aveva conosciuto sofferenze sentimentali o malattie il suo più grande dolore era stata la morte della prima moglie ma poco dopo sposò mia madre e ricordo che alla mia acuta osservazione di bambino non sfuggì che appena una settimana dopo la sua morte era esattamente quello di prima ma adesso infine un dolore era venuto il dolore della vecchiaia che tanto più soffre per il crollo delle speranze e quell'orgoglio quanto più quelle speranze e quell'orgoglio sono limitati e privi di ideali suo figlio avrebbe dovuto sposarsi presto probabilmente si sarebbe presentato alle prossime elezioni locali l'esistenza di quel figlio era il miglior motivo per acquistare ogni anno nuove terre e allargare la proprietà è terribile vivere facendo sempre le stesse cose un anno dopo l'altro senza sapere perché le facciamo forse forse la tragedia di una gioventù tradita ed una passione infelice è meno pietosa della tragedia di una vecchiaia delusa e frustrata nelle proprie ambizioni vidi a fondo nella desolazione del cuore di mio padre e provai un moto di profonda pietà nei suoi confronti che era l'inizio di un nuovo affetto un affetto che crebbe e si rafforzò nonostante la strana ostilità che mi dimostrò durante i primi uno o due mesi dopo la morte di mio fratello se non fosse stato per l'influsso conciliante di quella mia compassione per lui la prima compassione che io abbia mai provato sarei rimasto ferito nel constatare che mio padre trasferiva su di me l'eredità del suo figlio maggiore con un senso di mortificazione come se il destino lo avesse costretto all'ingrato compito di considerarmi importante fu soltanto suo malgrado che cominciò a pensare a me con una certa affettuosa benevolenza credo che non vi sia nessun figlio trascurato cui una morte abbia reso accessibile un posto migliore che non intenda quello che voglio dire a poco a poco tuttavia la mia nuova condiscendenza verso i suoi desideri effetto della pazienza che scaturiva da quella mia pietà per lui riuscì a conquistare il suo affetto ed egli cominciò a compiacersi del tentativo di farmi prendere il posto di mio fratello nei limiti consentiti dalla mia più debole personalità mi accorsi che l'ipotesi che ogni tanto si prospettava di un mio matrimonio con Berta gli era piuttosto gradita tanto che arrivò persino a contemplare per me ciò che non aveva accettato per mio fratello che suo figlio e la nuora andassero a vivere con lui la nuova tenerezza verso mio padre fece di questo periodo il più felice che avessi trascorso fin dall'infanzia furono anche gli ultimi mesi in cui ebbi la dolce illusione di amare Berta e del desiderio del dubbio e della speranza che pure lei mi amasse si comportava con me con una nuova consapevolezza tenendomi a una certa distanza e anch'io ero soggetto a un duplice imbarazzo per un senso di delicatezza verso mio fratello morto e per la preoccupazione circa l'effetto che quelle mie parole precipitose potevano aver provocato nella sua mente ma il nuovo ostacolo che questa reciproca riservatezza aveva retto fra noi mi assoggettava ancora di più al suo potere non importa che l'altare del tempio sia spoglio se il velo che lo nasconda è impenetrabile il bisogno di qualcosa di ignoto di misterioso è così assoluto nella nostra anima che basta mantenere quel dubbio quella speranza e quella lotta che sono la sua stessa vita al punto che se tutto il futuro ci apparisse noto a partire da domani tutti gli uomini si interesserebbero soltanto delle poche ore che ci separano da quel momento palpiteremmo per le incertezze del nostro unico mattino della nostra unica sera ci precipiteremmo di furia alla borsa per le nostre ultime possibilità di speculazione di vincita di disillusione salterebbero fuori dozzine di profeti della politica a prevedere crisi o non crisi nelle uniche 24 ore rimaste aperte ad ogni profezia immaginate le condizioni della mente umana nel momento in cui tutti i problemi fossero risolti tutti meno uno che avrà la sua soluzione alla fine di un giorno d'estate ma che per il momento resta oggetto di ipotesi dubbi discussioni l'arte e la filosofia la letteratura e la scienza sciamerebbero come api su quell'unico problema che conserva in sé il miere della probabilità con un unico interesse ancora più appassionato proprio perché il piacere ne finirebbe al tramonto i nostri impulsi le nostre risorse spirituali non si adattano all'idea del loro futuro annullamento più di quanto non faccia il battito del nostro cuore o la nostra energia muscolare berta la snella bionda fanciulla in cui pensieri ed emozioni continuavano per me a rimanere un enigma in mezzo all'estenuante ovvietà delle altre menti che mi circondavano mi assorbiva come quella sola giornata ancora sconosciuta come quell'ipotetico problema destinato a non avere soluzione fino al tramonto e tutti i misteriosi e soffocati slanci le incredulità la fiducia e i dubbi del mio carattere erano convogliati in questa sola direzione e mi fece credere di amarmi senza mai abbandonare il suo tono di badinace e di giocosa superiorità mi inebriò facendomi credere che le fosse necessario che non si sentisse mai a proprio agio se io non mi trovavo accanto a lei pronto a sottomettermi alla sua scherzosa tirannia occorre talmente poco a una donna per istupidirci a questo modo una mezza parola un improvviso momento di silenzio perfino un attacco di sciocca irritazione verso di noi ci può servire da hashish per un bel po' di tempo grazie a una sottilissima trama di astuzie quasi impercettibili mi porto a credere che mi aveva sempre nel suo inconscio amato più di Alfred ma che nella sua ignara e influenzabile sincerità di giovane fanciulla era rimasta affascinata dal fatto di essere ammirata e scelta da un uomo come mio fratello che aveva una posizione sociale così brillante si prendeva in giro con molto garbo per la propria vanità e ambizione cosa contava per me essere illuminato da quella infelice previsione ora che possedevo tutti i beni di mio fratello compreso il più intimo le nostre dolci illusioni il più delle volte sono coscienti di essere tali come quegli effetti multicolori che sappiamo essere provocati da orpelli pezzi di vetro e stracci ci sposammo diciotto mesi dopo la morte di Alfred in una fredda e limpida mattinata di aprile in cui vi furono sole e grandine insieme Berta nel suo abito di seta bianca ornato di foglie verde pallido i delicati colori dei capelli e del volto appariva come lo spirito stesso del mattino mio padre era felice al di là di ogni sua speranza era convinto che il matrimonio avrebbe completato a salutare modificazione del mio carattere facendo di me un uomo sufficientemente pratico e realista per occupare il posto che mi spettava nella società tra gli uomini normali era deliziato dal tatto e dalla perspicacia di Berta ed era certo che mi avrebbe saputo guidare facendo di me quel che voleva avevo solo 21 anni ed ero pazzamente innamorato di lei un povero papà conservò le sue speranze fin dopo il primo anno di matrimonio e non le aveva ancora perdute del tutto quando sopraggiunse la paralisi a risparmiargli la delusione completa affretterò il seguito della mia storia senza dilungarmi come ho fatto finora sulle mie esperienze interiori quando ci si conosce bene l'un l'altro si è portati a parlare soprattutto degli avvenimenti lasciando a chi ascolta il compito di dedurre sentimenti e sensazioni per qualche tempo dopo il nostro ritorno a casa fummo presi in un giro di visite dando splendide feste e creando una certa impressione sul vicinato per lo sfarzo dei nostri equipaggi dato che mio padre aveva asserbato questo sfoggio di accresciuta ricchezza in occasione del matrimonio di suo figlio demmo così demmo così ai nostri conoscenti la libera opportunità di notare fino a che punto io fossi una povera figura di erede e di sposo la fatica nervosa di questo tipo di vita le falsità le insulsaggini che dovevo doppiamente sopportare attraverso le mie percezioni esterne attraverso quelle interne mi avrebbero fatto impazzire se non fossi stato preda di una specie di ebbrezza dovuta alle gioie del primo amore circondati da tutti i vantaggi della ricchezza presi tutto il giorno nel vortice della vita di società che riempiono i loro momenti di intimità con carezze urbate di sfuggita si preparano alla loro futura vita coniugale come il novizio si prepara per il convento dall'esperienza del suo esatto contrario in tutti questi mesi affollati e pieni di eccitazione l'intima personalità di Berta mi rimase totalmente sconosciuta e riuscivo a leggere dentro di lei ancora soltanto tramite il linguaggio delle sue labbra e del suo contegno conservavo ancora l'umano interesse di chiedermi se quanto dicevo facevo le piacesse di aspettare con ansia una parola affettuosa di esagerare con delizia il significato di un sorriso ma ero sempre più consapevole di un cambiamento di modi nei miei confronti talvolta così evidente da poter essere chiamato arrogante freddezza pungente e gelida come la grandine caduta nel soleggiato mattino del nostro matrimonio talvolta appena percettibile come nell'evitare abilmente una passeggiata o una cena tette a tette che avevo a lungo desiderato soffri molto per questo senti quasi il mio cuore spezzarsi nel comprendere che il breve giorno della mia felicità si avviava al tramonto ma dipendevo ancora da Berta ansioso di ricevere gli ultimi raggi di una gioia che presto sarebbe sparita per sempre aspettando e sperando di cogliere un qualche residuo vagliore ancora più bello nella sua luce morente ricordo come potrei non ricordarlo il momento in cui quella dipendenza e quella speranza mi abbandonarono del tutto quando la tristezza che avevo sentito per il crescente di venirmi estranea di Berta fu quasi una gioia a cui ripensare come il rimpianto di chi ricorda le ultime sofferenze di un arto ormai paralizzato fu con esattezza il termine dell'estrema malattia di mio padre che ci aveva necessariamente distratti dalla vita di società avvicinandoci maggiormente l'uno all'altra fu la sera in cui mio padre morì quella sera il velo che aveva cerato l'animo di Berta che mi aveva fatto trovare in lei sola la benefica possibilità di conoscere il mistero il dubbio la speranza fu sollevato per la prima volta forse fu il primo giorno dall'inizio della mia passione per lei che quella passione venne completamente neutralizzata dalla presenza di un sentimento più forte di natura ben diversa avevo vigliato accanto al letto di morte di mio padre ero stato testimone dell'ultimo ardente sbardo di rimpianto lanciato dalla sua anima al bene ormai trascorso della vita l'ultima debole sensazione d'amore che aveva ricevuto dalla stretta della mia mano cosa sono tutte le nostre passioni personali quando abbiamo partecipato a quella suprema agonia in un primo momento quando ci allontaniamo dalla presenza della morte ogni altro rapporto con i vivi viene assorbito nel nostro sentire dal grande vincolo di una comune natura di un comune destino in questo stato d'animo raggiunsi Berta nel suo salottino privato era semistraiata su un divano la schiena rivolta verso la porta la ricca assontuosa massa dei suoi capelli biondo pallido coronava il collo sottile sopra lo schienale del divano ricordo che appena abbiuso la porta dietro di me fu preso da un freddo tremore e da una vaga sensazione vaga e forte come un presentimento di essere odiato e solo so come dovevo apparire in quel momento perché mi vidi nel pensiero di Berta quando alzò su di me i suoi penetranti occhi grigi e mi guardò un miserabile visionario che si sentiva attorniato da fantasmi nella piena luce del giorno che tremava al vento anche quando le foglie restavano immobili senza alcun desiderio per le cose che tutti desiderano che corre dietro ai raggi di luna eravamo uno di fronte all'altra e ci giudicavamo a vicenda era giunto per me il terribile momento della completa illuminazione e compresi che le tenembre non mi avevano nascosto nessun orizzonte ma solo un banale squallido muro da quella sera in poi durante tutti gli abominevoli anni che seguirono vidi per intero nell'animo meschino di quella donna vidi le piccole astuzie e le brutali negazioni là dove ero stato felice di immaginare una timida sensibilità e un'intelligenza in lotta con qualche segreto sentimento vidi le vane in costanti futilità della ragazza trasformarsi nella sistematica civetteria nell'egoismo intrigante della donna vidi la repulsione e l'antipatia irrigidirsi in un odio crudele pronto a ferire per il solo piacere di affermare se stesso perché anche Berta a modo suo sentiva l'amarezza della disillusione aveva creduto che la mia selvaggia passione di poeta mi avrebbe reso suo schiavo e che sendo suo schiavo l'avrei obbedita in tutto e per tutto con la completa superficialità di una natura negativa e priva di immaginazione era incapace di concepire che la sensibilità fosse in qualche modo differente dalla debolezza una debolezza aveva pensato che mi avrebbe fatto cadere in suo potere e ora scopriva che nascondeva una forza per lei ingovernabile le nostre posizioni si rovesciarono prima del matrimonio aveva dominato completamente la mia immaginazione perché rappresentava un segreto per me era stato io a creare quella personalità ignota davanti alla quale tremavo come se davvero le appartenesse ma adesso che la sua anima era nudo davanti a me adesso che ero costretto a conoscere le sue intime ragioni a seguire i trucchi meschini che preparavano le sue parole e i suoi atti si trovò senza alcun potere su di me eccetto quello di procurarmi un freddo brivido di disgusto priva di potere perché non poteva provocare alcun effetto in me con gli strumenti di cui disponeva ero indifferente alle ambizioni mondane alle vanità sociali a tutte le attrattive che entravano nel raggio della sua immaginazione limitata la mia vita era governata da interessi del tutto incomprensibili per lei era davvero da compatire con un marito del genere questa era l'opinione generale una signora graziosa brillante come Berta che sapeva sorridere ai visitatori mattutini faceva bella figura nelle sale da ballo ed era capace di dire quelle battute leggere che in bocca a una simile donna vengono scambiate per intelligenza poteva essere sicura di attirarsi tutte le simpatie a scapito di un marito malatico distratto e come alcuni sospettavano un po' pazzo perfino i domestici le dimostravano stima e compassione perché non era possibile udire litisi tra noi la nostra incompatibilità la repulsione reciproca restavano confinate nel silenzio dei nostri cuori se la padrona usciva molto spesso e sembrava non gradire la compagnia del padrone non era naturale poverina il padrone era così bislacco ero gentile e giusto coi miei dipendenti ma suscitavo in loro una pietà intrisa di timore e disprezzo infatti le persone di questa categoria sia uomini che donne sono ben poco influenzate nel loro giudizio sul valore altrui da considerazioni di ordine generale o da esperienze personali giudicano le persone come giudicano le monete e apprezzano quelle che passano per essere di gran valore dopo qualche tempo interferivo talmente poco nelle abitudini di Berta da far sembrare straordinario che il suo odio per me crescesse così intenso e insaziabile ma aveva cominciato a sospettare per qualche mio gesto involontario che vi fosse in me una normale potere di penetrazione che seppure a tratti fossi stranamente consapevole dei suoi pensieri e delle sue azioni e cominciò ad avere di me un terrore che talvolta alternava ad atteggiamenti di sfida rifletteva di continuo su come avrebbe potuto liberarsi da un tale incubo su come spezzare l'odioso legame con un essere che disprezzava come un imbecille e temeva come un inquisitore per un bel po' disse nella speranza che la mia evidente infelicità mi conducesse al suicidio ma il suicidio non era nella mia natura ero troppo dominato dalla sensazione di essere in balia di forze sconosciute per credere di potermene sbarazzare così facilmente nei confronti del mio destino ero divenuto di una totale passività perché il mio unico ardente desiderio si era consumato da solo e l'impulso non predominava più sulla coscienza fu per questo motivo che non pensai mai di prendere qualche iniziativa per una completa separazione che avrebbe reso evidente a tutti il nostro disaccordo perché avrei dovuto cercare un miglioramento in una nuova direzione quando soffrivo proprio per le conseguenze di un gesto che era il risultato del mio più intenso atto di volontà sarebbe stato nella logica di chi avesse avuto qualche desiderio da soddisfare ma io desideri non ne avevo così Bert ed io vivevamo sempre più lontani l'uno dall'altra per i ricchi è facile essere sposati e divisi questo periodo della nostra vita che ho descritto in poche frasi riempì lo spazio di anni quanta miseria quale orribile e lento accumularsi di odio e di peccato può essere contenuto in una frase e dire che gli uomini giudicano le vite degli altri con parole sommarie come queste riassumono l'esperienza dei loro simili e pronunciano un giudizio pieno di belle parole sentendosi saggi e virtuosi vincitori di quelle tentazioni che sanno definire scegliendo così bene gli aggettivi sette anni di infelicità trascorrono in un lampo sulle labbra di un uomo che non li ha mai contati in momenti di gelido sconforto di tortura del cuore e della mente di lotte orrende di rimorso e di disperazione impariamo a memoria le parole non il loro significato il significato dobbiamo appagarlo con il nostro sangue ed è impresso nelle più sottili fibre dei nostri nervi ma ora voglio affrettarmi a terminare la mia storia la brevità è sempre bene accettata sia da chi è pronto a capire sia da chi non capirà mai qualche anno dopo la morte di mio padre in una sera di gennaio ero seduto nella biblioteca rischiarata dalla debole luce del camino seduto nella poltrona di cuoio che era stata di mio padre quando sulla porta parve Berta con una candela in mano avanzando verso di me conoscevo il vestito da ballo che indossava il vestito da ballo bianco con i gioielli verdi brillava alla luce della candela che illuminava il medaglione con Cleopatra morente sulla mensola del caminetto perché veniva a trovarmi prima di uscire da mesi non la vedevo mettere piede in biblioteca mio abituale rifugio perché restava davanti a me la candela in mano lo sguardo crudele e carico di disprezzo con quel serpente che le splendeva come un demone familiare sul petto per un attimo pensai che questo realizzarsi della mia visione di Vienna dovesse segnare una svolta orribile nel mio destino ma nella mente di Berta non lessi nient'altro che disprezzo per l'espressione di opprimente angoscia con cui rimanevo a guardarla pazzo idiota perché non ti uccidi allora questo era ciò che pensava ma subito venne alla ragione della sua visita e si decise a parlare l'evidente futilità di quello che era venuta a dirmi creò un contrasto quasi ridicolo con le mie aspettative la mia apprezzione ho dovuto assumere una nuova cameriera Fletcher sta per sposarsi e desidera che io ti chieda per suo marito l'osteria e la cascina di Moulton vorrei che li ottenesse devi promettermelo adesso perché Fletcher va via domattina e sbrigati ti ho fretta va bene puoi promettergelo dissi con indifferenza e Berta usci rapida dalla biblioteca mi sono sempre chiuso in me stesso alla vista di qualche persona nuova soprattutto quando si trattava di una persona la cui vita interiore con ogni probabilità era tale da poter affaticare il mio riluttante dono di veggenza con triviali e ignoranti banalità ma rifugia ancora di più la vista di questa nuova cameriera perché il suo arrivo mi era stato annunciato in un momento al quale continuava ad attribuire un senso di fatalità nutrivo un vago timore di scoprire che avrebbe avuto in qualche modo una parte nel cupodramma della mia vita che qualche nuova spaventosa visione me l'avrebbe svelata come un genio del male quando alla fine come era inevitabile la incontrai la mia vaga paura si tramutò in vero e proprio disgusto questa signora Archer era una donna alta impettita dagli occhi scuri con un viso abbastanza bello per dare al suo aspetto grossolano e duro l'odioso tocco di una civetteria sfrontata e sicura di sé tutto questo bastava per farmela evitare senza mettere in conto il senso di disprezzo con cui mi considerava la vedevo di rado però mi accorsi presto che in poco tempo era diventata la favorita della sua padrona e che in capo a otto o nove mesi era nato nella mente di Berta un confuso sentimento di paura e dipendenza verso di lei un sentimento che si associava a scene confuse nel salottino privato di mia moglie a lume di candela e a qualcosa di chiusa a chiave nello stipo di Berta ma i miei colloqui con lei erano ormai così brevi e avvenivano talmente di rado da solo a solo che non avevo modo di percepire con maggior precisione queste immagini che erano nella sua mente e la rapidità del pensiero i ricordi si contraggono al punto che talvolta rassomigliano alla realtà esteriola solo un po' più di quanto i simboli di un alfabeto orientale rassomigliano agli oggetti che li hanno ispirati intanto durante l'ultimo anno o poco più si era verificata una sempre più evidente modificazione nelle mie facoltà mentali la mia veggenza nelle menti di quanti mi circondavano andava facendosi più debole e irregolare e i pensieri che affollavano la mia doppia percezione dipendevano sempre meno da contatti diretti tutto ciò che apparteneva alla mia individualità sembrava stesse morendo a poco a poco stavo così perdendo lo strumento attraverso il quale i propositi e le emozioni interiori degli altri mi pervenivano ma insieme alla provvidenziale liberazione dalla mia estenuante veggenza si andava sviluppando qualcos'altro di quello che definivo in modo che si è poi dimostrato esatto la previsione di avvenimenti esteriori era come se il rapporto fra me e gli altri esseri umani andasse man mano svanendo e il rapporto con quelle cose che si dicono inanimate invece si elevasse a nuova vita pian piano che la mia infelicità la violento tormento causato da una passione angosciosa si tramutava nello squallore di una sofferenza abituale vivo sempre più staccato dagli altri mentre le visioni del tipo di quella che avevo avuto a praga divenivano sempre più frequenti visioni di città ignote pianure sabbiose colossali rovine cieli di mezzanotte rischierati da fantastiche costellazioni valichi montani angoli erbosi chiazzati dal sole pomeridiano che filtrava tra i rami degli alberi ero al centro di queste scene e in tutte dietro quelle apparizioni grandiose sentivo incombere su di me la presenza di qualcosa di sconosciuto e implacabile la continua sofferenza aveva spento in me la fede religiosa per i più miseri coloro che non amano e non sono amati non c'è religione non c'è culto possibile se non quello del demonio e fra tutte queste visioni ritornava sempre quella della mia morte l'angoscia e il senso di soffocamento l'ultima lotta di chi cerca in vano di aggrapparsi alla vita così stavano le cose verso la fine del settimo anno di matrimonio mi ero ormai completamente liberato dal mio dono di veggenza dalla anormale conoscenza di pensieri che non mi appartenevano e invece di intromettermi contro la mia volontà nei mondi delle altre menti vivevo continuamente nel mio solitario futuro merta si era accorta del mio grande cambiamento con mia sorpresa di recente sembrava cercare l'occasione di restare in mia compagnia intavolando quel tipo di conversazione distante ma familiare che possono tenere un marito e una moglie che vivono in cortese ma insanabile incompatibilità sopportai la cosa con tranquilla sottomissione senza essere sufficientemente interessato ai suoi scopi per analizzarli a fondo tuttavia non potei impedirmi di percepire un che gli eccitato e trionfante nel suo comportamento e nell'espressione del suo viso qualcosa di troppo sottile per manifestarsi in parole o atteggiamenti ma che dava l'idea che stessi vivendo in uno stato di attesa ed in certa speranza il mio sentimento principale era di soddisfazione perché la parte più intima del suo pensiero mi era di nuovo impenetrabile e quasi mi rallegravo della distratta malinconia che mi faceva dare risposte contradditorie tradendo la totale incomprensione di quanto lei stava dicendo ricordo bene lo sguardo e il sorriso con cui un giorno dopo un errore di questo genere da parte mia disse avevo creduto che tu fossi un chiaroveggente e che per questo fossi tanto stile verso gli altri che ti somigliavano perché volevi essere il solo ma ora vedo bene che sei diventato più ottuso di tutti gli altri non risposi nulla mi sorse il dubbio che il suo riavvicinamento fosse causato dal desiderio di mettere alla prova la mia facoltà di scoprire qualcuno dei suoi segreti ma non vogli dare peso a questa ipotesi le sue motivazioni come pure le sue azioni non mi interessavano e qualunque fosse la soddisfazione che andava cercando non avevo nessuna voglia di contrariarla c'era ancora della pietà nel mio animo per ogni creatura vivente e Berta era viva viva e circondata da cose che la facevano soffrire proprio in questo periodo accadde un fatto che mi risvegliò in qualche modo dalla mia inerzia dandovi un interesse che ormai credevo impossibile per l'attimo fuggente della mia vita terrena si trattava della visita di Charmini e mi aveva scritto che aveva l'intenzione di venire in Inghilterra a riposarsi del troppo lavoro e che avrebbe avuto piacere di vedermi Menier era ormai famosa in tutta l'Europa ma la sua lettera mi esprimeva con nostalgia il ricordo di un rapporto di stima e di un antico debito di simpatia che è inseparabile dalla nobiltà del carattere e anch'io sentii che la sua presenza avrebbe potuto essere per me una specie di momentanea resurrezione in un più felice modo di vivere del passato arrivò e per quanto fu possibile ritrovai il nostro piacere di un tempo per le escursioni a due anche se invece di montagne e ghiacciai e ampi raghi azzurri ci dovevamo accontentare di pendii pozze d'acqua e campi coltivati gli anni ci avevano cambiati entrambi ma con quale diverso risultato Menier era adesso una figura brillante nell'alta società che le donne eleganti amavano ascoltare la cui amicizia era assai ricercata dagli aristocratici che volevano mostrarsi intelligenti con la massima delicatezza riuscì a nascondere ogni segno dello sbigottimento che sono sicuro dovete provare nel momento che ci ritrovammo e ogni desiderio di scoprire le mie condizioni di vita e la mia situazione cercò esercitando il suo affascinante garbo di uomo di società di rendere allegro il nostro incontro Berta rimase molto colpita dall'inaspettato fascino di un visitatore che aveva ritenuto accettabile solo in grazia della sua cerebrità e fece un grande sfoggio di civetteria e modi seducenti sembrò riuscire in pieno a ottenere l'ammirazione di Menier perché il suo atteggiamento verso di lei fu lusinghiero e pieno di attenzioni la presenza di Charles ebbe un effetto benefico su di me specie durante i nostri rinnovati vagabondaggi a due quando mi faceva meravigliosi racconti delle sue esperienze professionali tanto che più di una volta quando il discorso scivolava sulle implicazioni psicologiche delle malattie mi venne da pensare che se fosse rimasto con me abbastanza lungo forse avrei potuto arrivare al punto di confidargli i segreti della mia esistenza non si poteva trovare qualche rimedio anche per me nella sua scienza nella sua intelligenza così brillante e viva poteva non esserci un po' di compassione per me ma questo pensiero si limitava a sfiorarmi ogni tanto e morì prima di diventare un desiderio l'orrore di tornare di nuovo a intromettermi nell'intimità di un'altra mente infatti mi faceva per un irrazionale impulso avvolgere ancora di più il velo della dissimulazione intorno alla mia mente così come talvolta eseguiamo automaticamente un gesto che ci aspettiamo di veder fare da qualcun altro la visita di Ménier si approssimava alla fine quando avvenne qualcosa che crea una certa agitazione nella casa soprattutto per l'effetto incredibilmente forte che sembra produrre suberta suberta sempre padrona di se stessa mai preda delle agitazioni femminili controllata e impassibile perfino nell'odio questo qualcosa fu l'improvvisa grave malattia della sua cameriera la signora Archer devo menzionare a questo punto una circostanza che aveva colpito la mia attenzione poco prima della venuta di Ménier ovvero che c'era stata come una lite tra Berta e questa cameriera avvenuta credo durante la visita a una famiglia amica dove costai data la distanza aveva accompagnato la sua padrona avevo senza volere udito l'Archer parlare con tale odiosa insolenza che mi era sembrato un motivo più che sufficiente per licenziarla su due piedi ma invece non fu licenziata al contrario Berta sembrò sopportare in silenzio certi fastidi provocati dalle ripicche della donna restai parecchio sorpreso nell'osservare che la sua malattia sembrava destare la più grande sollecitudine in Berta che le rimaneva accanto giorno e notte non permettendo a nessun altro di sostituirla nelle sue funzioni di infermiera il nostro medico di famiglia era in vacanza così la presenza di Menier si rese doppiamente preziosa egli si occupò del caso con un interesse che mi sembrava andare molto al di là della dirigenza professionale tanto che un giorno mentre se ne stava in silenzio dopo averla visitata gli chiesi si tratta di una malattia molto particolare Menier no rispose lui è un attacco di peritonite che sarà mortale e che materialmente non si differenzia da molti altri casi che ho già trattato ma ti dirò che cosa ha in mente vorrei eseguire un esperimento su questa donna se me lo permetti non le potrà fare alcun male e non le recherà sofferenza perché non tenterò nulla finché la vita sensoriale non sia del tutto scomparsa voglio sperimentare gli effetti di una trasfusione di sangue nelle arterie dopo che il cuore avrà cessato di battere da alcuni minuti ho già tentato l'esperimento parecchie volte sopra animali morti per la stessa malattia con risultati sorprendenti ora vorrei provare su un soggetto umano ho nel mio bagaglio i tubicini necessari e il resto dell'apparecchiatura potrebbe venire preparato con facilità userei il mio stesso sangue prelevandolo dal braccio la donna non passerà la notte ne sono certo e vorrei che mi promettessi la tua assistenza per questo esperimento non è possibile portarlo a termine senza un aiuto e non mi sembra il caso di cercare un assistente tra i vostri medici di provincia potrebbero diffondere una versione distorta e assurda di tutta la cosa hai parlato a mia moglie di questa idea? dissi mi sembra particolarmente interessata questa donna era la sua cameriera favorita per la verità dispose Menier vorrei che non ne sapesse nulla le donne creano sempre difficoltà insormontabili in cose di questo genere e poi la vista degli effetti prodotti sul presunto cadavere potrebbero essere impressionanti noi due aspetteremo insieme tenendoci pronti quando appariranno certi sintomi io ti chiamerò nella stanza e al momento giusto faremo in modo di allontanare di lì tutti gli altri non occorre che riferisca il resto della nostra conversazione su questo argomento entrò nei minimi particolari vincendo il mio ribrezzo riuscendo a suscitare in me un misto di meraviglia di curiosità per i possibili risultati di quell'esperimento preparammo tutto il necessario e mi istruì su quello che avrei dovuto fare in qualità di suo assistente non aveva detto nulla a Berta circa la sua assoluta convinzione che la Archer non sarebbe giunta al mattino e cercò di persuaderla a lasciare la malata e prendersi una notte di riposo ma Berta era ostinata sospettava che la fine era ormai prossima e credeva che noi volessimo soltanto risparmiare i suoi nervi rifiutò di lasciare la stanza della malata e io ci tenemmo pronti nella biblioteca lui recandosi di frequente di sopra e tornandone sempre con la notizia che il caso stava assumendo esattamente la piega prevista a un certo punto mi chiese può immaginare quali motivi di rancore possa avere quella donna verso la sua padrona che lei così affezionata credo che sia stato un dissapore tra loro prima della malattia ma perché me lo chiedi perché nelle ultime cinque o sei ore ho notato dal momento credo in cui ha perso ogni speranza di salvarsi che sembra esservi in lei come uno strano impulso a dire qualcosa che il dolore e la debolezza le impediscono di dire e ha uno sguardo carico di odio negli occhi che volge di continuo verso la sua padrona spesso in questa malattia la mente rimane singolarmente lucida fino all'ultimo non sorprende che vi siano in lei sentimenti malevoli risposi è una donna che mi ha sempre ispirato di fidanza e disgusto ma era riuscita a conquistarsi il favore della sua padrona a questa risposta tacque e rimase a fissare il fuoco con aria assorta finché non andò nuovamente di sopra restò assente più a lungo del solito e quando ridiscese mi disse con calma vieni è il momento lo seguì nella stanza dove alleggiava la morte entrando le cortine scure del grande letto formavano uno sfondo che metteva in forte risalto il pallore del viso di Berta ebbe uno scatto di insofferenza poi fissò su Menier uno sguardo indagatore pieno di collera Menier alzò una mano come a imporre il silenzio mentre scrutava la donna morente e le sentiva il polso quel volto era ormai livido spettrale coperto di sudore freddo e le palpebre abbassate nascondevano i grandi occhi scuri dopo un minuto o due Menier si spostò dall'altro capo del letto verso Berta e con il suo tono abituale di elegante cortesia la pregò di lasciare la paziente alle nostre cure sarebbe stato fatto tutto il possibile la malata non era più in condizioni di rendersi conto della sua presenza affettuosa Berta esitava in apparenza quasi desiderosa di credere alle sue assicurazioni e di obbedire guardò il volto spettrale della moribonda come a volervi leggere una conferma di quanto le veniva detto quando per un istante le palpebre abbassate si sollevarono di nuovo e parve che quegli occhi senza espressione guardassero verso di lei un brivido attraversò le ossa di Berta che si rimise al capezzale con la tacita implicazione che non avrebbe abbandonato la stanza le palpebre non si sollevarono più guardai Berta mentre spiava il volto dell'amorente indossava un ricco peignoir e i suoi capelli biondi erano in parte raccolti sotto una cuffia di merletto nel suo abbigliamento era come sempre una donna elegante degna di figurare in un dipinto della moderna vita aristocratica ma mi domandai come aveva potuto quel viso sembrarmi il viso di una donna nata da un'altra donna con ricordi di infanzia capace di dolore desideroso di tenerezza i suoi tratti in quel momento apparivano taglienti in modo disumano gli occhi erano così duri e febbrili sembrava una crudele divinità che trovasse il suo godimento spirituale davanti all'agonia di una mortale quei lineamenti così tesi vennero attraversati quando l'ultimo respiro fu esalato come da un lampo e tutti sentimmo che il velo nero era definitivamente calato quale segreto esisteva tra Berta e quella donna distonzi lo sguardo da lei nell'orribile timore che la mia veggenza potesse tornare e fossi così obbligato a vedere quello che si era creato tra i cuori delle due donne sentii che Berta aveva atteso il momento della morte come il suggello del suo segreto ringrazia il cielo che restasse sempre suggellato anche per me Menier disse piano se n'è andata poi offrì il braccio Berta e stavolta accettò di venire portata fuori due domestiche credo per ordine suo entrarono nella stanza a dare il cambio a quella più giovane che era rimasta presente fino a quel momento quando entrarono Menier aveva già aperto l'arteria del collo lungo e sottile che caceva rigido sul cuscino le mandai via con l'ordine di restarsene lontano finché non le avessimo chiamate di nuovo il medico spiegai doveva tentare un'operazione per assicurarsi in pieno del decesso durante i 20 minuti che seguirono dimenticai tutto salvo Menier e l'esperimento in cui era assorbito al punto da farmi credere che i suoi sensi sarebbero risultati impenetrabili a tutti i suoni o le immagini che non fossero in relazione con quel suo lavoro fu mio compito all'inizio attivare la respirazione artificiale nel corpo dopo che era stata effettuata la trasfusione ma poi Menier mi diede il cambio e potei vedere il lento stupefacente ritorno alla vita il petto cominciò a sollevarsi le ispirazioni si fecero più forti le palpebre tremarono e l'anima sembrò essere tornata dietro di loro l'espirazione artificiale fu interrotta ma il petto continuò a sollevarsi ritmicamente e le labbra si mossero proprio allora udì la maniglia della porta a girare forse Bertha era stata avvertita dalle donne che avevamo mandato via probabilmente una qualche vaga paura si era impadronita di lei perché entrò con un'espressione allarmata avanzò verso i piedi del letto e lanciò un grido soffocato gli occhi della morte erano aperti e si fissarono nei suoi con piena consapevolezza la consapevolezza dell'odio con un improvviso supremo sforzo la mano che Bertha aveva creduto immobile per sempre si puntò contro di lei e il volto disfatto si mosse la voce strozzata fannosa disse tu vuoi avvelenare tuo marito il veleno è nello stipo nero io te l'ho procurato hai riso di me hai raccontato menzogne alle mie spalle facendomi odiare perché eri gelosa te ne penti ora le labbra continuarono a mormorare ma i suoni si fecero indistinti poi ogni suono cessò rimase solo un leggero movimento la fiamma si era alzata rapida e ancora più rapida andava spegnendosi le corde del cuore di quella disgraziata avevano reagito all'odio e alla vendetta lo spirito della vita le aveva sfiorate per un istante poi era svanito di nuovo per sempre dio mio significa questo dunque tornare alla vita risvegliarsi con tutta la nostra sete insoddisfatta con le maledizioni non pronunciate che ci salgono alle labbra con i nostri muscoli tesi a completare i peccati incompiuti Berta pallida rimase ai piedi del letto tremante e inerme senza speranza di salvezza come un astuto animale la cui tana si è ormai circondata dalle fiamme dirompenti anche Ménier sembrava paralizzato per lui in quel momento la vita non fu solo un problema scientifico quanto a me questa scena mi sembra accordarsi con tutto il resto della mia esistenza l'orrore mi era familiare e questa nuova rivelazione era soltanto il diverso ritorno di un antico dolore e allora Berta ed io abbiamo vissuto separati lei nelle sue proprietà padrona di metà delle nostre ricchezze io viaggiando per paesi stranieri fino a questo rifugio nel Davonshire dove sono venuto a morire Berta vive nella pietà e nell'ammirazione di tutti cosa mai potevo fare contro una donna così affascinante con cui chiunque eccetto me avrebbe potuto essere felice non c'era stato alcun testimone a quella scena nella stanza della moribonda eccetto Ménier e cui labbra come mi aveva promesso sarebbero rimaste serrate per sempre una volta o due stanco di vagare mi sono fermato in qualche angolo a me caro e il mio cuore si è aperto agli uomini alle donne ai bimbi i cui volti cominciavano a divenirmi familiari ma poi fuggivo via di nuovo con un terrore a ricomparire della mia solita facoltà di veggenza fuggivo lontano per vivere di continuo con quell'unica presenza ignota rivelata e occultata al tempo stesso dalla mobile cortina della terra e del cielo infine l'ultima malattia si è impadronita di me e mi ha costretto a vivere qui mi ha costretto a vivere dipendendo dai miei domestici e allora la maledizione della mia veggenza della mia doppia coscienza è ritornata ancora per non lasciarmi mai più conosco tutti i loro meschini pensieri la loro scarsa considerazione la loro stanca pietà è il 20 settembre 1850 conosco questi numeri che ho appena scritto come un epitafio da lungo tempo familiare li ho visti innumerevoli volte sopra questa pagina nel mio scrittoio quando mi si è aperta davanti la scena della mia agonia di moribondo di moribondo di moribondo il prossimo episodio l'ultimo episodio di moribondo di moribondo Grazie a tutti